Bene, il primo intervento è quello di Nicola Mattoscio. A lui, come a tutti gli altri, chiedo in questo primo giro di interventi intanto di confermarci che la sfida per la crescita in Abruzzo va avanti bene e poi anche di aggiungere un piccolo tassello, e cioè qual è la priorità per fare ancora meglio? Grazie per l'invito. Per fare delle micro fondazioni per quei macro scenari che in linea di massima sono molto molto comprensibili e condivisibili. Allora, l'Abruzzo, i dati sono noti, confermo che effettivamente per quanto è a mia conoscenza e per quanto ci dicono i dati ufficiali più aggiornati, cresce, sta riprendendo a un ritmo leggermente superiore al benchmark di riferimento nazionale, a cui contribuiscono, e questo è anche interessante, non solo i rami di attività che caratterizzano, hanno caratterizzato finora il suo modello di crescita e sviluppo, cioè il manufatturiero che si incardina soprattutto sull'automotive, ma contribuiscono anche altri rami di attività manufatturiera e anche l'interessante, ormai consolidato e avanzato sistema dell'agroalimentare abruzzese. Chiarito questo, che siamo dentro il processo comune a quello che è la strada con cui speriamo possiamo uscire fuori dal contesto di gravissima criticità che faticosamente ci siamo lasciati alle spalle, vengono al nodo, al pettine, chiedo scusa, i nodi degli argomenti principali con cui il professor Sapelli ha tramato i grandi scenari macroeconomici mondiali e anche quelli geopolitici. Proviamo a non sfuggire agli interrogativi di fronte, è giusto o non è giusto l'intervento dello Stato o un ruolo più importante e significativo del pubblico in questo contesto di criticità dei nostri sistemi economici e sociali? Io credo, dico la mia subito, è inevitabile, ma nell'osservanza più scrupolosa dei più solidi ed eruditi principi del liberalismo, non del liberalismo, ma del liberalismo, dalla grande tradizione, del grande pensiero del liberalismo che l'Occidente ci consegna nelle mani e che spesso invece noi maltrattiamo e di cui non ci sforziamo di essere adeguati interpreti. Però dobbiamo sforzarci di capire cosa possa significare questo, questa maggiore attenzione del ruolo pubblico nell'economia, soprattutto per uscire fuori da questa situazione di crisi così importante che speriamo cominciamo a lasciarci alle spalle. Qui bisogna porsi un altro interrogativo, e cioè la stagione che stiamo vivendo è un momento di fluidificazione della storia o è un momento di svolta della storia? Ne conseguirebbero scenari profondamente diversi. Se fosse un momento di fluidificazione della storia, allora la scienza economica e l'indirizzo di pensiero economico che credo di poter intuire e percepire anche nel professor Savelli e che io condividirei se così fosse, cioè quello di dire bene che inesianamente parlando, quindi anche con i maestri che lui ha citato nelle traduzioni italiane, basta impegnarsi seriamente a sostenere la domanda aggregata anche in una regione piccola come la nostra per accelerare e rendere robusto il processo di fuoriuscita. Temo che però la stagione che stiamo vivendo non è una fluidificazione della storia, ormai a livello mondiale quasi sicuramente siamo di fronte a una rottura della storia e quindi a una svolta, non a una fluidificazione. Allora se siamo di fronte a una svolta è evidente che ci dobbiamo interrogare ancora di più di che cosa ci aspetta l'immediato prossimo e il futuro più lontano e di cosa ci lasciamo subito alle nostre spalle. E qui mi permetto di andare su un percorso, non so quanto discusso finora perché non ho assistito a tutti i lavori di questo importantissimo meeting e non ho ascoltato nemmeno tutto l'intervento, devo dire che chiedo scusa al professor Savelli perché sono arrivato con un po' di ritardo, e andiamo agli attavici problemi del Mezzogiorno d'Italia e della nostra piccola regione nell'ambito del contesto del Mezzogiorno d'Italia. E qui è il caso di fare chiarezza una volta per tutte anche nella cultura nazionale e nella ricerca, nella letteratura scientifica sulla questione meridionale. E queste riproposizioni a untate come i cicli ricicli della storiografia letteraria su un Mezzogiorno per cui il Nord avrebbe rubato, derubato il Mezzogiorno d'Italia. Io direi di smetterlo una volta per tutte, di mettere dei punti fermi inequivocabili, io proverò a farlo con poche battute su una variabile che invece ha molto di risvolti in termini di continuità con quello che è la nostra stagione e quello che potrebbe essere il nostro immediato prossimo. Prendiamo le ferrovie, la mitologia che c'era da Napoli Portici, che qui di Mezzogiorno era l'avanguardia in termini di modernizzazione. Niente di più falso, l'unità d'Italia, quando si realizza l'unità d'Italia nel marzo del 61, in tutta Italia abbiamo circa 2000 km di ferrovie. Tutti o quasi tutti concentrati nel centro-nord ma frammentati tra di loro perché ogni pezzetto rifletteva i sette staterelli che c'erano. I sei per la verità perché nel Mezzogiorno non c'era davvero nulla, quasi nulla, Napoli Portici non fa storia. E invece il nord dell'Europa era infrastrutturata, già messa in rete, non era solo il collegamento tra la miniera, Oxford e Londra, i canali che arrivavano a Tamici, ma c'erano già le città ben collegate, c'erano le filiere produttive della manifattura di allora, ben collegate e ben messe in rete. Solo pochi anni dopo, 1863, la dossata adriatica ferroviaria era realizzata quasi di tutto. Maggio del 63 i principi viene a inaugurare la Ancona Pescara, dopo pochi mesi si arriva a Brindisi, c'è la famosa concorrenza a Marsia con la valigia delle Indie per fare in modo che gli inglesi potessero bypassare Marsia e andare al nostro porto di Brindisi per raggiungere la loro grande colonia e dunque una modernizzazione immediata con un salto subito si arriva in pochi anni a 12-13 mila chilometri di ferrovia nazionale e poi si moltiplicano le realizzazioni e però la modernizzazione c'è, le ferrovie si realizzano perché le fa lo Stato, perché fino a quel momento c'era stato anche il tentativo di far fare al capitalismo francese in una logica di contentino da dare all'alleanza politica avuta nel processo di unificazione, per il processo risorgimentale del Paese, ma se non interveniva lo Stato perché ci sono delle innovazioni tecnologiche dove la domanda non viene prima dell'offerta, è l'offerta che crea la domanda, cultura economica classica, legge di 6i, ma che non è contrapposta a sostegno alla domanda Keynesiana, è solo questione di asimmetrie temporali, nel brevissimo periodo c'è la domanda, nel medio-lungo periodo c'erano stare strategie consapevoli di cambiamenti strutturali, di innovazioni significative nei modelli di crescita e di sviluppo di ogni contesto, internazionale, nazionale, regionale. E perché però questo intervento in realtà fallisce, fallisce nel senso relativamente al recupero dei gravi squilibri economici del mezzogiorno anche rispetto al centro-nord dei allora, è fallisce perché la rete ferroviaria non è concepita come rete al servizio anche del mezzogiorno, ma è concepita come penetrazione e quindi una logica solo di allargamento del mercato, molto interessante all'epoca del centro-nord, e del quanto si proiettava nella perizia italiana dal nord Europa. E Salvemini denuncia clamorosamente e ripetutamente la mancata realizzazione della Foggia-Napoli e poi meno ancora la Bari-Napoli, cioè le traverse per mettere in rete i territori, le comunità, le filiere economiche. Tutto questo, queste realizzazioni a pettine non venne né concepito né ci si sforza di realizzare. Questa è la riflessione da fare perché adesso, mutatis, mutatis, non voglio rubare molto tempo, siamo ancora sul tema della rete. Dalla materialità e fisicità della rete, dall'immaterialità e l'invisibilità della rete, ma è la rete che determina davvero il successo, l'insuccesso o i livelli di successo, di nuovi modelli di crescita e di sviluppo. C'è stato sapientemente ricordato il ruolo di queste poche, ahimè, grandi piattaforme della new economy nel mondo contemporaneo, nell'attualità proprio, nell'attualità che viviamo quotidianamente. Ci sono problemi enormi che andrebbero discussi, non è questo il caso. Ma le statistiche ci dicono, quelle europee, quelle più credibili, quelle confezionate dalla stessa Commissione europea, che l'Italia ha già dei gravi deficit rispetto al resto dell'Europa e che in mezzogiorno a sua volta ha dei deficit rispetto al resto dell'Italia. Si ripete una storia antica, è un photo finish di una situazione che si registrava nel 1861 a proposito delle reti ferroviarie. In mezzo però abbiamo avuto la grande rivoluzione delle reti autostradali, di cui si parla poco, e a questo punto anche le realizzazioni però anarchiche, non in reti, solo concibite in maniera puntuale, del sistema portuale soprattutto nel mezzogiorno. L'economia blu nel mezzogiorno dovrebbe essere centrale, dovrebbe essere strategico, perché è più vocato in mezzogiorno che il centro nord in questo settore di attività, invece è in ritardo, invece non ci si sforza di mettere in rete. Ora invece la tecnologia, la conoscenza, offrono una straordinaria e inedita opportunità che è delituoso come nostra generazione, non sapere interpretare, non sapere coniugare, non sapere fare in modo di tradurre in straordinaria occasione per recuperare e superare i deficit, ma soprattutto per realizzare anche una società più giusta, perché a proposito del ruolo più attivo dello Stato, non possiamo dimenticare che non si tratta solo di fare investimenti, quindi la Pescara, Roma, Ferroviaria, è inutile, solo lo Stato lo può fare, per fortuna è stato sapientemente inserito nel PNRR. Ma insieme a questo si devono fare le autostrade invisibili e ci sono tutte le zone interne, questa è una regione fatta soprattutto di zone interne, c'è scarsa urbanizzazione e ci sono tutte le zone interne che sono scassamente, se non addirittura, scollegate dalle reti informatiche. Siamo restati a 30 anni fa che avevamo teorizzato l'Abruzzo Regione Verde d'Europa con i parchi e oggi se andiamo in un parco non siamo più civili perché non riusciamo neanche a avere un telefono collegato con il resto del mondo. Quindi è una sfida terribile per tutta la regione e soprattutto per le zone interne. Dunque io direi che si può essere al tempo stesso molto preoccupati, molto allarmati per le evidenze che sottolineano i ritardi e le criticità, ma al tempo stesso siamo fortunati perché possiamo cogliere straordinarie opportunità anche con tempi possibili di realizzazione che mai la storia ha messo di fronte all'umanità e anche di fronte a una piccola regione come quella abruzzese. L'ulteriore sfida è quella delle classi dirigenti. E qui il buon maestro Caffè, lo ricorderà il professor Sapelli, in realtà non ha, non so se mi sbaglio, ma credo che non ha mai usato la parola socialismo in vita sua, però affidava all'epoca, al suo sogno di welfare state, il ruolo di coesione come alimentazione fondamentale di quello che oggi noi chiameremmo, gli imprenditori oggi giustamente chiamerebbero capitale umano. E qui c'è l'altra grande sfida. Bisogna reinventare il modello di welfare state, non l'assistenzialismo perché non è più questo il tema da declinare, ma nuovi diritti di cittadinanza a supporto di nuovi livelli di consapevolezza. Qui ci sono nuove forme di analfabetismo nel mondo, in Italia, nel masogiorno e in questa regione. Bisogna investirci perché il futuro è fatto soprattutto di conoscenza, è il fattore produttivo più importante, è la conoscenza. Questo lo dicevo, un grande premio Nobel ormai scomparso, che solo ormai il 20% dei fattori produttivi tradizionali riuscivano a spiegare ai suoi tempi, è la produzione di nuova ricchezza, l'80% era indice di ignoranza. Bisogna adesso rarregrarsi un po', non è più l'80% la nostra ignoranza, l'abbiamo abbattuto molto, resta abbastanza ignoranza, ma siamo andati molto avanti e abbiamo scoperto sempre più che è lo zainetto della conoscenza che si mette addosso alle nuove generazioni in termini di qualificazione del capitale umano lungo le nuove frontiere della modernità, che è il fattore decisivo e discriminante tra modelli di crescita e di sviluppo di successo e di quelli che non lo sono. E' meglio monitorabile, osservabile, io direi di più, meglio governabile, le dimensioni medio-piccole, come una piccola regione quale l'Abruzzo, e per realizzare questo che è solo apparentemente un sogno, invece è una straordinaria, concreta opportunità che la storia ci offre. Lei è presidente della Fondazione Pescara Abruzzo, arte, cultura, finanzia, progetti, può indicarci il progetto a cui tiene di più tra quelli che avete nel cassetto e che state tirando fuori? Sì, noi abbiamo coltivato nel tempo un progetto, ma abbiamo coltivato nel tempo una strategia di pianificazione, tra virgolette, non da Stato sovietico, ma nel senso dell'autoregolamentazione che il professor Sapelli invocava, affidata però al ruolo e alle responsabilità di una pluralità di soggetti, nel caso noi siamo solo e non possiamo che continuare a essere uno solo dei tanti soggetti necessari a portare avanti un disegno simile, che significa loro non un'idea e non un progetto, perché la Fondazione Pescara Abruzzo pochi si sforzano di osservarla davvero attentamente, ma ormai, e spero che il Presidente della Repubblica che ci raggiungerà fra qualche giorno, lo sappia sapientemente registrare, la Fondazione Pescara Abruzzo ha portato avanti l'idea del distretto della cultura e della conoscenza in un'area circoscritta di limitate dimensioni umane, ma purtuttavia un'area sufficiente per essere sperimentatori e poter anche indicare percorsi pioneristici da poter imitare in altre parti dei territori regionali, ma soprattutto a livello nazionale, che si intende per distretto della cultura e della conoscenza. La Fondazione Pescara Abruzzo è l'unico network cittadino che dispone in proprietà, ma che gestisce in proprio, assicurando servizi alla comunità, i cineteatri, tutti i cineteatri, i palcoscenici della città. La Fondazione Pescara Abruzzo ha realizzato, stiamo celebrando il Premio Nazionale delle Arte nel settore design, sta arrivando adesso una delegazione autorevolissima del Ministero dell'Università della Ricerca per le premiazioni che avverranno alle ore 17, ha generato l'ISIA, l'Istituto Superiore per Industrie Artistiche specializzata nel design, che in questa regione raccoglie la tradizione di Corradino Ascanio, ma è proiettato sul futuro perché utilizza i laser scanner tridimensionali di ultimissima generazione per studiare il patrimonio archeologico del paese, non solo di questa regione, e di questo se ne è preso atto e se ne sono accorti i vari ministeri. Questo ha significato già decine e decine di posti di lavoro, ma soprattutto prospettive straordinarie per ragazzi capaci, vogliosi, professionalizzati, che sono meravigliosi perché loro sì stanno davanti a noi, davanti a me, e stanno andando avanti in questo progetto. La Fondazione Pescara Abruzzo ha realizzato un polo museale, l'Imago Museum, colmando un vuoto inaccettabile in termini di diritti di cittadinanza per l'intero medio adriatico italiano. Da Bologna a Bari non c'è un solo museo degno di questo nome, l'abbiamo realizzato ed è però non un ultimo tassello che provincialisticamente si aggiunge alle altre realtà. No, vuole essere, già vi invito a visitarlo, ed è questo credo la curiosità che ha coinvolto il nostro presidente Sergio Mattarella, vuole essere invece un progetto di integrazione culturale di questa parte dell'Italia con le dinamiche più interessanti nazionali e internazionali. Basta vedere le collezioni che sono esposte in questo momento per rendersene conto. La Fondazione Pescara Abruzzo inaugurerà a primavera lo spazio più importante d'Europa dedicato al fumetto. Dici, ma come? Il fumetto che c'entra? Ma sì, abbiamo avuto in Italia e addirittura con il vocemento di questa città, di questa regione, l'omero del fumetto che è Andrea Pazienza. Intorno a questa forma di espressione culturale ci sono centinaia e migliaia di giovani appassionatissimi che lavorano, che sperimentano e che coltivano in forme diverse la cultura che aiuta la consapevolezza alla cittadinanza delle comunità. Bene, noi l'abbiamo fatto, lo inaugureremo soltanto a primavera. Poi c'è un altro importantissimo polo interdisciplinare che partirà dalla settima arte, si chiama cinema, partirà dal cinema e dalla formazione e produzione di tutto quello che è cinematografia d'intorno, ma con le nuove tecnologie, molto più immateriali, invisibili, snelle e leggere, per cui non ci vogliono più i grandi capannoni di cinecittà per fare la cinematografia moderna. E anche lì candidiamo questa città e questa regione a essere interpreta protagonista di questa frontiera avanzata dello sviluppo, delle possibilità di sviluppo. Dunque, messe tutti insieme, ce ne sono altre ma mi limito qui, messe tutti insieme questi ingredienti, tessono l'idea di distretto della cultura e della conoscenza, perché dentro c'è l'alta formazione, ci sono i beni culturali, c'è il protagonismo diffuso delle comunità, ma finalizzato a fare economia, ma al tempo stesso anche consapevolezza, perché solo la coesione sociale aiuta l'economia sana. Grazie.